Sono dovuto scappare dalla mia patria, dalla mia città, troia, in fiamme. Ho perso la mia sposa, ma ho portato con me sulle spalle il passato e tra le braccia il futuro. Ho visto madri che piangevano per il dolore, bambini con il futuro distrutto dalle bombe, il cui diritto di andare a scuola è stato cancellato dalla guerra. Uomini in strada che combattono per la loro patria, mentre mi allontano dalla mia casa penso a tutto quello che ho perso. Non sono razzista, voglio solo sicurezza per la mia famiglia e i miei figli. Questa è la mia terra e non la vostra. Qui c'è già poco lavoro e occupate i posti che aspetterebbero a noi. Penso che voi dovreste affrontare i problemi del vostro paese, di mesi di scappare e arrivare qui, pretendendo qualcosa che non abbiamo neppure noi. Questo paese non è un posto per tutti. Non sono scappato per via che via, ma perché ho diritto alla vita e alla dignità. Ora quello che cerco è la mia libertà. Immagina capita a te.